Il regolamento che l'amministrazione comunale di Bologna intende realizzare, dentro il quale ha coinvolto anche noi, è molto importante perché dà la possibilità di avere una certezza giuridica ad un percorso di collaborazione tra pubblica amministrazione ed enti del terzo settore. Questo è importante per due motivi. Il primo perché consegna alla società civile uno strumento nuovo per impostare rapporti non di mercato con la pubblica amministrazione. Il secondo motivo è perché così i giudici amministrativi che di solito intervengono per verificare la bontà e la legittimità di questi percorsi si trovano di fronte a procedure che sono state validate da un percorso scientifico.